Dopo le soste non c'è una buona lettura del momento, credo che l'unico pericolo era questo, però loro hanno dimostrato veramente di voler essere protagonisti in questo campionato. Hanno affrontato un avversario che sicuramente oggi non ha dimostrato i punti che ha in classifica, credo che questo è il merito del Gela che li ha attaccati sempre. Magari al primo tempo siamo stati poco cattivi sotto porta e potevamo sbloccare la partita prima, però devo fare i complimenti a questi ragazzi che hanno dimostrato il gruppo quando vedi segnare a Maurizio Nassi e tutti vanno ad abbracciarlo. Credo che questo è lo spirito che noi vogliamo, che abbiamo creato. Siamo contenti, abbiamo fatto esordire a Marco e un 2000, questo significa che il Gela vuole crescere, è uno spunto per far vedere che il Gela sta buttando le basi per il futuro e credo che è un momento molto positivo e siamo molto contenti. Il primo tempo è stato giocato abbastanza bene, molto aggressivi, veloci. Loro sono rientrati sicuramente dopo l'1-0, i primi minuti del secondo tempo sono entrati bene in campo, hanno dimostrato lì in quei 20 minuti che sono una squadra che se la può giocare fino alla fine. Però poi il Gela credo che abbiamo aggiustato qualcosa perché si stavamo un po' allungando, davamo il pallino del gioco dei due centrali che creavano Superiettana d'America al centrocampo, poi l'abbiamo attaccato un po' più alto e poi Alessandro ha inventato questo gol che sicuramente ha spezzato quel momento positivo che loro avevano. Noi siamo ambiziosi, credo che dobbiamo essere umili ma ambiziosi nel senso che il motivo del lavoro quotidiano deve essere sempre per migliorarsi, per guardare sempre in più in alto possibile. Credo che questi ragazzi, oggi dicevo siamo partiti da questa partita il 4 settembre e non abbiamo mai perso quello spirito e noi se continuiamo a avere questo spirito di gruppo, chi gioca fa la loro parte, credo che il Gela nel giorno di ritorno può essere protagonista come stanno dimostrando adesso.